Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Bella che io eravamo i temi GRANANAS e siamo tornati con un nuovo video, con un nuovo pack opening Sempre insieme a noi, l'orso e la luna nella casa blu perché oggi sono i blu da trovare, sono i Toz blu Che quali Toz ci stanno? Non so, ormai ci sono tanti Toz Tutti Toz a felibetta Che non escono mai Giustamente Già iniziamo Già iniziato già Non escono se sa Infatti Come sempre si apre un altro pacchetto Toz vuol dire qualcosa ai microfoni? No Toz Dico solo Toz No C'è Diof Babadiof Sbam Come al solito noi apriremo 500k e in questi 500k vediamo quanti Toz troviamo Manco uno Di zero Manco uno Alla volta è successo che ne abbiamo trovato di zero anche se è difficile non trovarne nessuno su 500k Però il router non è di buon Attenzione ci sarà i card di Toz? E' uscito anche Tevez Oh Benzema Non vale un cazzo Faccio l'agab e nello nato Sì saltelli Mole brandelli Gomba Lodelli Non c'è un po' l'agab e nello che ha fatto Oh l'ho skippato Lol Lol Felipe Anderson Lol Che aveva fatto anche un gol Magari già sa che in se vede un po' Tutto un criccato Sono tutto in Johnny E ieri questo era per football Sono tutto Johnny in cric Guarda che Oh Non vale un cazzo All'ondo stale Sì avrei due perché sono agab Sono molto agab Quindi ne apro due In realtà perché l'ho avvertito io due Però va bene Foot Facciamoglielo credere Toz Williams Cana Dai bamba nomine bambam 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 Mekhidi ci abbiamo lo stemma del Virtu Centella su questo account Bellissimo TENZIONE Juan Fran, che era fortissimo sul FIFA, era fortissimo sul FIFA, su espansione dei mondiali comunque ancora ha secco di tozzo ohhhh non troviamo un cazzo, di oggi veramente non troviamo un cazzo ancora secco di tozzo stavo mano del morale eeeh nani 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 non troviamo un cazzo nani nani da Manchester United, lo Spartan, lo desbon, 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 comunque vai, vai, vai con i guai in tots, ce sta, lo creiamo noi, ce sta un tots, cazzo, almeno uno del Bayern, ma che ci frega dei tots, noi c'avemo, pizarro, 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 oh, Tyson, lui prima dammelo l'orecchio, Isaacson, che l'hai notato due volte if, dai, sezione, mancano ancora 300.000 critiche, non c'è, non c'è, un tots per me, non c'è, non c'è, un tots per me, ma c'è, ma c'è, un mellino per me, ma c'è, ma c'è, lui, ma perché l'altra? Lui, è uno che dove li porta i giocatori? Trocasse, c'è, li porta a cucinare, vabbè, vai l'altra, perché lui è kitchen, health kitchen, gli rende la vita all'inferno, health kitchen, non c'è, non c'è, un tots per me, non c'è, non c'è, oh, ma che cazzo è successo? Sal, ho frusciato Sao, mi ammazza, Sao, è cambiato, questo, o questo, regà, se ne è un coreano che gioca a lol, io me ne vado, questo è un coreano, guarda, c'è pure la divisa della squadra, si, si, quelli sono, gli SKT, è lui, oh, gli SKT, è un altro si chiama, eh, am, pam, pensiamoli fino a am, stiamo a metà tragetto, eh, poco più di metà, si, con l'elm, noi ci copriamo, e poi arriva, aprimo sto pacchetto, io te ne faccio netto, le tots ne trovo mezzo peretto, dai, bello, infatti, lo diricazzo, ma questo, cravavo, è l'unico che c'è una foto, cravavo, grattissima, questo, mentre sta a girare a tre quarti, sta, si, mentre stava a finire la birra, dicevo, direttamente dal tuo detective, si, è lui, è lui, è lui, cioè, dalla nuova stagione, un tots, dammelo, ti prego, vai con tots, vai, oh, cazzo, c'è anche il tuo volete, eh, che cosa, ma non si sma, si, ma, attenzione, salve, comunicazione di servizio, finito il rosmarino, prendiamola salvio, vai avanti, così, ci sta, ci sta, oh, cazzo, sono rimasti 200k, meno di 200k, ancora abbiamo trovato un tots, che cosa succede qui, che succede, che la sfiga ci perseguita, dai, iliseu, ma poi, tiè, dai, dai, su, mandaci ci faccio, qui c'è qualcosa, ma poi c'è traurè, no, è Niang, è Niang, è Niang, è Niang, si, e chi sa la storia, capirà, chi non sa la storia, non capirà, giustamente, non c'è, e per questo bisogna studiare la storia, di Niang, che è importante la storia, di Niang, oh, 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 guai ho, tappo, te io, evitz, ote, ote, ote io, tappo, dai, ce la possiamo fare, trova un cazzo di tozza, ma c'erano, 119k, un tozzo di cazzo, niente, eh, manca quello bono, capito, non, manca, secondo me, zero bono, oggi non troviamo veramente un cazzo, ma che cazzo è, oggi, mo mi sto a cazzare davvero, eh,IN captain chi è, però guarda quanto è equilibrato 79, 79, 79, 82, 83 79 è taglio 79 è riempimento del kebab e 79 è scaldamento del kebab bravo samba la samba vai vai che si finisce a 500 precisi che precisione abbiamo precisione plastica vai così niente non si trova più un cazzo abbiamo trovato Fabian Schitoz noi attenzione l'altro un altro un altro a me niente inferson da giù c'era Tyson isaxson e son vabbè raga questo pack opening è finito purtroppo è brutto perché non abbiamo trovato niente fa veramente pena non trovare niente soprattutto quando i reti sono alti ma mi sa che questa volta li hanno riabbassati comunque se vi è piaciuto questo video lasciamo 5000 like noi ci becchiamo come sempre al prossimo pack opening andate in descrizione per il link di facebook e di instagram bella